Ho già sbagliato, ho già sbagliato Però sì, noi volevamo sempre iniziare in movimento Oggi non sei violace, ogni spiaggia Però una parte violace è sempre Sì, ma infatti la rifaremo la cosa di cacca Comunque tu sei sempre perfetto con questo fondale Sì, ma infatti io quando a casa devo scegliere come vestirmi per venire qui Penso a come posso essere abbinato alla parte di unboxing Siamo qui nella parte unboxing Intanto potete godervi i fantastici, bellissimi, meravigliosi Madonna, che belli che sono Oggi non riesco a tenere A quanto pare, vola tutto Allora, questo di Morpheus Aspetta, che diamo anche la camera Così diamo principalmente l'attenzione Esatto Allora, abbiamo Morpheus del nuovo Matrix Revolution Alla fine se uno lo vede così dice Ah vabbè, ma tanto è sempre Morpheus Però no, se voi ovviamente No, no, certo Questo è nuovo Ma c'è un motivo per tutto Avete visto il nuovo Matrix? E se sì, volete dimenticarlo? Sì, grazie Come volete dimenticare? Con lo spara flash di Man in Black Esattamente Quello lì Guarda che bello E questo, signori, io ho un problema Bellissimo E adesso ve lo esporrò brevemente A me piace moltissimo Batman Come sapete ormai tutti Lo so benissimo Lo sappiamo tutti Ecco Non riesco a trovare un pop di Batman Che mi piace Mi convinca? Questo ti piace? Questo mi piace Ah beh, meno male Allora Questo mi piace molto Questi pugnettini, minaccioni Davvero C'è i piccoli pugni Che carino Ma lui è Jack Nicholson Dai Lui è Jack Nicholson Infatti questo è chiaramente il Batman di Keaton Che meraviglia Che è il mio meno preferito Si può dire Ah no, attenzione In questa versione Funko mi piace Ci sta, ci sta tutto Molto, molto, molto Bene Guarda che fossette Che fossette Ecco Ecco A proposito A proposito E ragazzi Passiamo all'unboxing Signori Oggi abbiamo il microfono Trust G Aspetta perché qua GXT241 Velica Che era Potevamo chiamarlo Velica 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 Che è un oggettino molto interessante Per chi vuole per esempio Cominciare A strimare Non solo Detronizzare la regina di Twitch Ma non ce la farete mai Non ce la farete mai Nonostante questo microfono Nonostante tutto Ottimo comunque per lo streaming E non solo Certamente Vai capo Approfittate Che passo apro E si apre così Così Mi aspettavo una fuoriuscita laterale Le fuoriuscite sono sempre da Benissimo Che eleganza signori Che eleganza Somerchio stile Come sempre Come sempre Guardate Cioè il Non so perché mettono in adesivi Allora Mettono in adesivi Perché loro pensano Che noi Le attaccheremo Sul nostro case Sul frigo Sul case Sul case Sul case Non lo faremo mai Lo sapete Quindi è inutile Che ce le date Però ok Certo Se avessimo 14 anni Li metteremo Sul motorino Ecco Perché stavo dicendo Che io ce ne avevo Le sticker Quando ero piccola Ma non li usavo Per non sprecarli Il grande paradosso Ce li hai ma non li usi Quindi in realtà Non li usi mai Va bene Posso dire che questo è proprio Per cancellare la memoria Sì E invece il nostro microfono Però guarda Ha una forma meravigliosa Bellissima Beh posso dire che di solito I microfoni hanno sempre Quella forma Posso dire Vabbè Hanno una forma No Cioè Questo momento unboxing Sta veramente diventando Imbarazzante Attualmente Sono così Sì Finisci la fase Sicuramente una forma Recuperala Che Vediamo come ne esce Che vi fa notare Insomma Che al giorno d'oggi Abbiamo bisogno di un microfono Di una certa Anche dimensione Per contenere Tutte le cose Questa volta Io me ne vado Questo ci fa Io non voglio partecipare Questo ci fa cazzino Dire che invece Anche in piccole dimensioni È possibile Avere un'ottima qualità Ma è vero Perché dobbiamo Continuare ad avere Un peso Perché poi dovete Comprare l'asta Dovete comprare L'asta pesante E invece Non la vogliamo Al di là Degli scherzi E di tutto il discorso Assolutamente Frantitive di CAF Cioè Il momento Abbassimo È la parte più comica Dalla puntata Dovremmo essere seri Concili Rapidi Ecco Allora Guarda Guarda Perché appunto Viene venduto Questo prodottino Con Il pratico Come dicevi tu La lunga È bella Ma a volte Anche scomoda È scomoda Esatto Quindi qui Tre piedi Non serve niente Si incolla Così Si avvita Guarda Così Un'elica Ho sbagliato Elicotti Ho sbagliato Elicotti Perché No No Sbagliato Perché prima Devi inserire Il microfono L'avevo immaginato Però Si fa Tra l'altro Come passa Un po' di Qui arroganza Ci vuole Deve entrare All'interno Della fessura Che si è creata Aspetta che ti aiuto Ecco Grazie Non è stato Non hai avuto bisogno No Stavolta no Vedo che Poi appunto C'è il montaggio Più sicuro di questo Ragazzi no Perché c'è quella rete Che lo protegge E quindi non si muove Piccolo Si Ma conciso Viaggiate Avete bisogno di streamare Da qualche parte In treno Che ne so Vi portate questo Anche perché Comunque Il microfono Ovviamente È cardioide E quindi Vi aiuta A eliminare I cosiddetti rumori Che ci sono intorno Ideale Perfetto E fantastico Per i podcast Per i vostri streaming Esatto Ovviamente c'è anche Il cavo usb Lo attaccate al computer Ah è anche una buona È introghezza Posso dirlo No È in tre secondi È pronto per il vostro uso Fatene quello che volete ragazzi Il velica Tra l'altro È ottimo È venduto sul sito di GameStop Ovviamente a 59,98 In questo momento è scontato A 47,98 Un buon prezzo ragazzi Perché trovare un microfono Da streaming Che costa così Praticamente Non lo dico Proprio seriamente Al di là di tutto Fatevelo dire Dall'esperta Io secondo me È un ottimo entry level Prezzo buono Ottimi risultati Comodo Iniziate Nell'istream Sicuramente Di una scheda acquisizione Assolutamente Per cui Questa Questa la stiamo proprio staccando In questo momento Che apertura Questa piccolina Aspetta che la facciamo vedere Allora Tra l'altro è carina Perché è proprio uno scrignettino Questo classico Verde Rezor Qua ci sono tutte le istruzioni Oh è tornato l'adesivo Un altro adesivo Tornato quell'adesivo Che mai useremo Ottimo Però è bello E soprattutto C'è lei Anche qui Raga Oggi Dimensioni Contenute Ma ottimi Risultati Eccolo Cosa fa questo strumento Prego Prego ce lo faccia vedere Acquisizione 4K a 30fps Quindi abbiamo Tutta la figaggine 4K Abbiamo la connettività HDMI 2.0 E USB 3.0 Per non perdere Assolutamente Nessun dato Zero latenza Tutto quanto Ovviamente Compatibile Con i principali Programmi di streaming Ok Quindi E anche qua Plug and play Quindi estremamente facile Da utilizzare Estremamente facile Da Non c'è installazione In pratica Buonissimo Io anche questo Lo trovo Un ottimo entry level Anche perché Il prezzo è 149,98 euro Ma al momento Scontato A soli 119,98 E insomma È comunque uno sconto Quindi signori Con meno di 200 euro Oggi vi abbiamo mostrato Un ottimo microfono E un'ottima Scheda d'acquisizione Ideale Ripeto Ci sono sicuramente Prodotti Tecnologicamente Più avanzati Che vi permettono Più potenzialità Ma Per iniziare Magari uno non ha Già tutti quei soldi Da investire Anche per imparare Comincia a capire Questa però Secondo me La scheda d'acquisizione In particolar modo Con un po' di accortezza Vi può anche aiutare Qualora vorreste Aumentare il vostro livello Infatti Infatti Secondo me Come al solito Io mi rubo qualcosa Ma perché Bisogna essere così Capito Bisogna avere Quella Quella strafottenza Infatti vuole essere Un po' come Kobe Perché si porta via tutto È strano che non si sia Portato via ancora Batman Perché manca soltanto questo Tu non potresti mai rubarlo Perché ci metti dieci anni Per staccare Non ti bevo tanto GameStop Ma ti entra tutto In quelle tasche Bene signori Piccola pausa Ci vediamo tra poco Eccoci Lo sapevo Anche questo